Io prevedo un interesse notevole per sbagliati motivi, innanzitutto perché la tecnologia consente di saldare in maniera efficace ed efficiente lamiere metalliche di metalli differenti, di spessori differenti, quindi consente una customizzazione, una taylorizzazione delle strutture mettendo lì dove c'è bisogno le lamiere un po' più spesse, lì dove c'è bisogno le lamiere un po' più sottili. È stato ampiamente dimostrato che questo può essere anche facilmente deformabile e per cui realizzeremo in tal modo strutture estremamente efficienti e molto leggere. C'è poi il tema caldissimo delle autovetture elettriche. Le autovetture elettriche hanno un telaio del tutto nuovo, sono autovetture molto pesanti per cui è ben avere un telaio molto leggero, l'alluminio ben si presta a questo. Inoltre c'è l'ulteriore punto estremamente delicato dello stoccaggio delle batterie e dell'elettronica. Da questo punto di vista l'FSV sembra essere quasi l'unica soluzione perché non prevede interferenze di tipo elettromagnetico con sorgenti saldanti del tipo l'arco elettrico piuttosto che il fascio laser e pertanto consente una sigillatura di una realizzazione di strutture saldate molto efficienti, molto prestanti con ridotti o nulle ingiurie al contenuto dei case.